Non posso non negare che sono emozionatissimo, è il mio primo incarico pubblico dopo tanti anni di militanza politica. Abbiamo fatto un bel consiglio comunale dopo una bellissima campagna elettorale ed è chiaro che io auspico che con le opposizioni ci sia dialogo soprattutto sui contenuti, quindi sui problemi da affrontare, sulle modalità per risolvere queste questioni. La città caudina per noi è un'occasione importante e può rappresentare il futuro dei nostri territori, quindi noi ci crediamo, vogliamo dare il nostro contributo ed è chiaro che dal primo giorno mi impegnerò affinché con la città caudina possiamo ridare una speranza appunto a questa valle. Ormai l'Europa guarda con particolare attenzione all'Unione dei Comuni e quindi non possiamo perdere queste occasioni. Attraverso la città caudina dobbiamo trenare delle risorse fondamentali per creare condizioni di sviluppo qui in Valle Caudina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.